ci siete ragazzi mi ricevete morrei grazie a dio orte chiaro elis tutto bene sì non abbiamo molto tempo io ho trovato un elicottero fuori da qui il punto d'incontro è al bund potete arrivarci ci arriveremo quanto tempo abbiamo ti giuro che stasera ne ho le palle piene merda speravo che ti saresti occupato tutto il lavoro di salta il punto di recupero è alla fine dell'argine tenete duro siete quasi fuori che la facciamo salm credo lo scopriremo presto però hanno davvero fatti i numeri in questa città già abbiamo trovato l'acqua non può essere molto più avanti mercenari ore 12 eliminiamo lì non lasciamo che chiamino i rinforzi basta così ecco 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 Mitragliatrice in vista! Grazie per la visione! Ti sei allenato? Non so, non so, non so. Grazie a tutti 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 Forza Grazie a tutti 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 Grazie a tutti